Arabia Saudita, Egitto, Bahrain, Emirati Arabi, Yemen, Libia e Maldive rompono le relazioni diplomatiche con il Qatar. Il Qatar è escluso dalla coalizione che sta intervenendo militarmente nello Yemen. Nel paese blocco totale dei voli e dei confini. In forse anche i mondiali di calcio del 2022. Motivazione. Il Qatar fomenta terrorismo nella regione. Il riferimento è da una parte le formazioni dei fratelli musulmani e dall'altra a tutti quei gruppi non in linea con il modello wahabita-salafita che Riyadh diffonde nel mondo islamico. L'emiro del Qatar, lo sheiko Tamim Ben Hamid Al-Tani, avrebbe commesso un imperdonabile errore. L'Iran rappresenta un potere regionale islamico che non può essere ignorato, avrebbe dichiarato lo sheiko la settimana scorsa, descrivendo tra l'altro Hamas come il legittimo rappresentante del popolo palestinese. Nonostante le smentite di Doha che ha accusato Aker Arabi di essere entrati nei sistemi operativi dei media statali del Qatar, Riyadh ha accusato Doha di aver rotto i ranghi sunniti per affiancarsi ai nemici sciiti iraniani. Alcuni esperti sostengono che la totale interruzione delle relazioni diplomatiche di questi paesi con il Qatar sia in realtà il preludio di un imminente intervento militare per rovesciarne il governo. Inoltre, i dubbi sulla fedeltà di Doha nello scontro con l'Iran avrebbero come obiettivo quello di spingere l'amministrazione Trump a trasferire il comando militare centrale degli Stati Uniti nel Golfo dal Qatar in un'altra petromonarchia, con ogni probabilità il Bahrain, leale alleato di Riyadh, dove ha già sede la quinta flotta degli Stati Uniti d'America. Teheran continua a rispettare gli accordi sul nucleare. Lo conferma il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica pubblicato il 2 giugno scorso, il secondo dall'insediamento di Donald Trump. Le scorte di uranio arricchito dell'Iran restano ben al di sotto del limite di 200 kg concordato con le potenze mondiali, mentre le riserve di acqua pesante non superano le 130 tonnellate. Per gli esperti dell'Agenzia, oggi la capacità della Repubblica Islamica di costruire una bomba nucleare è nettamente inferiore di quanto lo fosse due anni fa, prima della sottoscrizione dell'Accordo. La fase peggiore della guerra è passata. Ne è convinto il presidente siriano Bashar al-Assad, intervistato dall'emittente televisiva indiana World is One News. Per Assad la situazione nel paese è migliorata notevolmente, con i guerriglieri di Daesh e di Jabhat al-Nusra che battono in ritirata. Nel fine settimana, l'esercito siriano ha liberato Maskana, l'ultima grande città in mano ai tagliagole nella provincia di Aleppo. Tuttavia, sostenendo i terroristi, alcuni paesi impedirebbero a Damasco di vincere la guerra una volta per tutte. Tra questi, il presidente siriano ha accusato apertamente Arabia Saudita, Turchia e Qatar, ma anche Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. È l'inizio di una nuova era, sostiene Bashar al-Assad, in cui il terrorismo internazionale diventa un'arma per il raggiungimento di scopi politici. Il Pentagono non esclude un conflitto con la Cina nel mare cinese meridionale. Al vertice di Singapore sulla sicurezza, il segretario americano alla difesa James Mattis ha dichiarato che gli Stati Uniti non intendono chiudere un occhio sulla militarizzazione delle isole artificiali. La reazione di Pechino non si è fatta attendere. Definendo irresponsabili tali dichiarazioni, il portavoce degli esteri cinese ha definito sovrana l'attività della Cina nel mare cinese meridionale. È aggiunto che la costruzione di infrastrutture nell'arcipelago delle Spratly non avrebbe niente a che vedere con la militarizzazione, bensì servirebbe a migliorare le condizioni di lavoro dei residenti. Con una mossa mirata a frenare il cambio nero delle valute e il rischio default, la Banca Centrale del Venezuela ha svalutato il Bolivar del 63,9% rispetto al dollaro, che ora vale 2.100 bolivares rispetto ai 728 di prima. Ottima la reazione della borsa di Caracas, che in una settimana guadagna il 73%. Negli ultimi 12 mesi la borsa venezuelana ha registrato un rialzo del 128%. Secondo gli analisti, gli investimenti locali sarebbero incentivati dalla necessità di proteggere la propria ricchezza dai morsi dell'iperinflazione. Intanto infiamma la crisi sociale e sale a 65 il conto delle vittime e delle proteste. Nella città di Marawi si combatte strada per strada. Almeno 3.000 persone ridotte alla fame non riescono a fuggire. Il vicario episcopale e 14 cattolici in ostaggio in una chiesa da giorni. Sabato 3 giugno 20 civili e 38 soldati hanno perso la vita, mentre sarebbero stati uccisi 120 terroristi. La situazione incandescente avrebbe incentivato l'azione del lupo solitario che dopo la mezzanotte di giovedì ha attaccato a Manila il casino del Resorts World, provocando 36 morti e 54 feriti. Per le autorità inquirenti si sarebbe trattato di un atto criminale non correlato a terrorismo. Grazie a tutti.